Tre mesi fa il colpo più duro per Maurizio Zamparini, la improvvisa morte del figlio 23enne a Londra. Una batosta morale che ha pesato e ne ha aggravato il peso sul fisico. Un primo ricovero avuti nella vigilia di Natale, fino a un nuovo ricovero nei giorni scorsi a Ravenna e la morte giunta nella notte fra lunedì e martedì. A giugno avrebbe compiuto 81 anni. Una vita intensa, due mogli, cinque figli, attività imprenditoriali spazianti dalle didizie alla grande distribuzione. I mercatoni Z, una ventina in tutta Italia, con oltre 4.000 dipendenti, furono una solida realtà fatta crescere in parallelo alla carriera sportiva di Zamparini. Un presidente deciso. Lo capirono bene a Venezia, dove nel 1987 impose una fusione con i mestri per, diceva, costruire una squadra unica capace di unire le forze per raggiungere la Serie A dalla C2. Una missione compiuta con la cidegina di tre anni nella massima serie, ma anche con troppe ruggini. Quella tra i tifosi di Laguna e Treferma non completamente risolte nemmeno a generazioni di distanza. E tantomeno quella dello stadio nuovo, che Venezia reclama fin dagli anni 40 del secolo scorso, e che Zamparini, con sette progetti intradustri, ha solo portato sulla carta, come nel 1998 sentiamo in questa vecchia intervista. Questa nostra presentazione è stata fatta anche un po' di proposito per dire siamo pronti. Insomma, in maniera che qualche, non cacciari, ma qualcuno dell'opposizione, di quelli che spingono al contrario, casomai esca lo scoperto, dice io non voglio lo stadio, lo dicono. Per la prima pigliatura deve arrivare in tempi molto stretti. Deve arrivare entro due o tre mesi, perché altrimenti non ce la facciamo entro due anni. Non due, ma quattro anni dopo, la certezza che quello stadio non l'avrebbe più costruito, lasciò Venezia per acquistare il Palermo da un giorno per l'altro, spostando in un pulmino 14 giocatori e il tecnico Ezio Glerri andare in trio estivo dei Lagunari a quello dei siciliani, e lasciando in mano a Franco Dalcin un Venezia più povero e meno tecnico, che negli anni sarebbe passato per tre fallimenti, ma anche per una recente risalita in Serie A. Quella Serie A che lui mantenne più o meno alla grande a Palermo per altri 15 anni. Il sogno europeo solo sfiorato, nonostante i grandi investimenti e l'enorme intuito. Portò a Venezia e Recoba, e in Sicilia gente come Cavani, Pastore e Di Bala. Per non parlare degli allenatori, Zamparini, ben consigliato o meno che fosse, ha lanciato alla ribalta Zaccheroni e De Zerbi, ingaggiato futuri commissari tecnici quali Ventura e Prandelli, gestito Pioli, Spalletti e Gasperini, ovvero l'attuale classifica di Serie A dal secondo a quarto posto. Sempre con lo stesso vizio dell'impulsività, ha messo sotto contratto 51 allenatori e buona parte di essi li ha esonerati per poi richiamarli. Solo Novellino e Guidolin possono vantare il percorso netto con lui. E un record zampariniano difficilmente sarà abbattibile, ovvero 8 allenatori in una stagione sola si sono alternati a Palermo nel 2015-2016, nella sagra degli esoneri. Stava già iniziando però la parabola discendente del presidente irascibile, alle prese in seguito con disavventure giudiziarie che lo hanno portato a domiciliari nella sua villa di Aiello del Friuli. Un ritorno alle radici che non aveva mai lasciato, la morte del figlio, l'ultimo colpo per la sua forte fibra, ma ancora nei mesi scorsi erano vive le voci di un suo interesse per la triestina. Una nuova sfida, vera o presunta che fosse, che non è riuscito a raccogliere.